Da quel 15 settembre 2022, gli aiuti manuali ed economici per le conseguenze create dall'alluvione al Comune di Cantiano non sono mai mancati. Una città che deve ripartire, che è un gran parte delle attività in situazioni difficoltose senza un futuro chiaro davanti a sé, è arrivato questa mattina un piccolo ma quanto mai prezioso gesto dalla parte più piccola della società. 400 studenti di 12 scuole elementari e medie del Comune di Pesaro hanno donato alla città di Cantiano un assegno da 1200 euro. Il contributo è frutto dei 12 notiziari ITG delle Buone Notizie, realizzati da settembre 2021 da bambini e ragazzi che compongono la redazione Gentile insieme ai loro docenti e dirigenti scolastici e che si sono messi alla prova con scrittura, montaggio video e public speaking. L'obiettivo, in linea con il progetto Mezzo Pieno, è quello di distribuire messaggi buoni da raccontare e da condividere per diffondere la cultura della positività. Sono molto contenta di devolvere questi 1200 euro al Comune di Cantiano colpito dall'alluvione nelle ultime settimane. Un gesto concreto di solidarietà da parte delle scuole del nostro territorio, della nostra città, impegnate in un progetto divertente e anche proficuo. Buone notizie all'interno di Redazione Gentili, 12 ITG delle Buone Notizie caricati sui nostri canali social, visibili a tutta la cittadinanza, per raccontare anche il lato buono della nostra quotidianità. Questo è un segno tangibile, le redazioni hanno lavorato moltissimo, a cui vanno i miei ringraziamenti ai docenti, alle ragazze, ai ragazzi e ai dirigenti che hanno coordinato l'iniziativa, con la speranza che le buone notizie possano essere sempre più popolose e numerose all'interno della nostra quotidianità. Un ringraziamento mio personale, da nome dell'intera comunità di Cantiano, al Comune di Pesero, per la vicinanza non solo morale, ma la vicinanza materiale che ci sta dimostrando in questa difficile fase che stiamo attraversando. Da quel 15 settembre Cantiano è stata letteralmente travolta da questo tragico evento che ne ha compromesso il patrimonio pubblico, ma soprattutto ha colpito il cuore del Paese. Oggi Cantiano ha oltre il 70% delle attività socio-economiche compromesse, è stato colpito il centro storico, un'intera area artigianale e quindi pensare al futuro e al ritorno alla normalità non può prescindere dal rilancio del tessuto socio-economico, quindi delle occupazioni e quindi della residenzialità. Quindi vicinanze concrete come quella dell'assessore Murgia che stamattina ci ha dimostrato sono segnali di incoraggiamento e di fiducia nel potersi rimettere in gioco, rimboccarsi le maniche e pensare di nuovo a un futuro per Cantiano e di Cantianesi. Quindi è inevitabile in questa fase per noi, prima di pensare ai ponti e alle strade, pensare all'economia reale e quindi alla prospettiva di un suo rilancio e quindi accorato e quotidiano è l'appello alle istituzioni affinché ciascuno faccia la propria parte. C'è bisogno di un aiuto concreto, immediato, che possa dare quella fiducia e quel senso di vicinanza da parte anche delle istituzioni per far sì che si possa da subito orientarsi verso meccanismi di riapertura a cui poi solo dopo aggiungere altri strumenti di supporto.